Buonasera Scala, passa un po' la base, buonasera, buonasera, come state, è bene sì o no? Ma siamo tutti di scala questa sera? Come no? Alziamo la mano, chiedi scala! Ma è se c'è nessuno di scala, veramente, stai sì? Ripeto, alzate la mano, chiedi scala! Un, due, tre, il biscotto in bocca a te e l'evento a voi! Alzate la mano, chiedi a tutti gli altri paesi! Un ringraziamento da parte mia, da parte di scala, da parte di organizzazione comunale, lo facciamo con un grande applauso a tutti gli altri paesi che sono in te, ve lo mi forza, grazie di cuore! Come sapete stasera è un'ospitata qui alla grande scala, poi senz'altro si terrà un grande concerto in estate, la grande che aspettiamo tranquillamente! Maestro, è arrivato, non è arrivato, stasera, se lo andiamo al pubblico! Avete visto per caso a Giovanna a Minigonna, qualcuno qui in piazza? Qualcuno ha visto a Giovanna a Minigonna? Dove sta? Questa ragazza con le questione non era una roba, la aspettavamo qui stasera! Vabbè, iniziamo il nostro spettacolo per le tante belle minigonne di stasera, che l'ho vista poco però! Andiamo al pubblico con Giovanna a Minigonna! Vabbè, iniziamo il nostro! Sono qua, spiegate un po' questo faro! Vabbè, vai, vai! Oh! Buonasera anche a voi, su la sinistra! Minigonna, vai! E ti sei santo!